Ciao a te ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono James Colossette e oggi in questo video faremo provare al mio amico Lollocation, il mio gioco che ho creato io. Quindi, cosa devo fare? Continua? Anche nuova partita. Allora facciamo nuova partita. Sì, dammi tenere le mie cuffie. Eh dai sentiamo. Ok. Devo leggere oppure? Vabbè, puoi saltare, puoi saltare come come vuoi stare. Allora saltiamo. Si può abbassare un tasto con me, mi sono assurdito. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Ehi ciao, benvenuto. Ehm, come si chiama? Gabriele. Ah sì sì, benvenuto all'office. Sono sempre io, Gabriele. Ah, vuoi sapere cosa mi è successo l'ultima volta? Sì. Niente, sono stato quasi aggredito da un coniglio mastardo. Veramente? Si fa chiamare, è il Gabriele Cap, un altro e non è morto. Ehm. Oh, oddio. Ma aspetta, dove vedete le chiamo? Ehm, questo qua? Ecco. Quest'anno che sono di mio padre si faceva chiamare Don Corpista World, o qualcosa di genere. Qua sono Ernie, di france e Gatschie, esattamente di tutti. Sicuramente dopo finiranno l'ospirale un po'. Ok. Non ho capito, qual è lo scopo qua? Per l'ultimo mi si fa vivere 5 notti, con più la la sesta e i settimanofili, esattamente. E l'ultimo mi si è attaccato. Come hai fatto a morire? Perché non gli hai dato il concorsock, ma è che se vedi che è con la finestra dell'ufficio, non gli hai dato il concorsock. Però alla fine è il concorsock, non sempre. Ok. Ok. Guardate le telecamere, guarda. Ok. Ok. Scusate, se clicchi qua, vedi solo le telecamere che se mi sbaglio o lo metto dietro alla stanza delle telecamere. Oh, qua non so neanche il chitto, se noi connessi a parlare. E Mio padre era mi ... e qui perché Gabriele se tu sei Gabriele? Gabriele, 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 Gabriele è mio, è il mio nome. D'arte? no, no, posso dire. Daaa. Questa all'occasione di mio padre la faceva azionare da. Ma aspetta Spero arriva, dove si pensi? Ok Ok Ma veramente? Vabbè Sono 9 e mezza e c'è tutto questo solo Non c'è solo il tuo nome Sì 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 Tu Igari Tu Igari Ma sono le due Di Gio Tu hai una cosa elettrica Ma mandano via e mandano fuori C'è le due di notte in questo momento Ok Ma Ecco Ah lo devi fulminare con quello Sì Tu controllo sempre Non lo so Allora Allora Controllo sempre la finestra Perché Perché non si sa mai Giusto giusto Perché non si sa mai Giusto giusto Perché non si sa mai Si è per caso non si sa mai Si è per caso non si sa mai Si è per caso non si sa mai Ma che cazzo Ma questo pulsante Ma questo pulsante qui si può azionare soltanto quando lui è lì Si è per caso Tu controlla sempre la finestra Perché Non si sa mai Allora Sto attento Eh Tu controllare le telecamere se vuoi Se vuoi controllare le telecamere Eh Dammi Un'altra cosa ti volevo dire Che metti Ma le finestre sarebbe pure questa Ehm No Aspetta ci fai Ah Ma che cazzo Ah Ok Beh Il mio gioco Come cavolo ho creato Vabbè Comunque Eh Dammi Quello ci volevo dire Sì è che Vai di là Ma Cioè Vammi con corsock Che si illumina la Ecco Con corsock E questo Sì Adesso qua Ce l'ha fatto arrivare Sì Ehm Aspetta l'ho creato Gli armatori L'ho creato un po' mossi Sì Che l'ha Chiude la finestra Ma qua alla fine Ehm 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 Ti fanno il culo così Alla finita notte Ehm 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 Non arriva più questo C'è fatto tutto Il giaccio E non arriva più Ehm Semma che non arriva più Ma in realtà In realtà Qui dentro l'angolo secondo me Sì Eccolo Nooo Ecco Ok Sto dicendo qualcosa di incredibile Non si capisce Guarda 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 e niente quindi hai vinto te ciao quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto quindi se fosse così lasciate un bel mi piace iscrivetevi al suo canale e seguito su tutti i social che lui ovviamente vi elencherà sotto in descrizione e ora tocca a te e quindi adesso ci spero e noi giochiamo un prossimo video ciao